Pallone troppo lungo per Tomà, fa buona guardia Martina Lenzini, protagonista nella difesa della Juventus, giocatrice che è andata a farci un po' le ossa a Sassuolo, adesso leader di questo reparto. Sale Lenzini, ancora Martina Lenzini all'indietro, occhio però a questa palla persa, prova ad andare Guagni, due contro uno, corre Tomà, Lenzini straordinaria a chiudere su Alia Guagni, che giocatrice sta diventando Martina Lenzini. Era un'ottima opportunità questa per il Milan, con Guagni e Tomà che stavano avanzando, grande chiusura di Lenzini, ancora Tomà, Lenzini in anticipo, porta fuori questa palla, poi la difende molto bene, deve stare attenta anche al raddoppio, che chiede e ottiene bene questo 1-2 da Adam, il cross tentato ancora una volta Martina Lenzini, che poi voleva anche evitare la rimessa. Movimento accanto alle due panchine, inquadratura meritata per Lenzini, occhio a Tomà, Lenzini, occhio, rischia di esagerare qui Martina Lenzini, la Piemonte, ancora Lenzini, ancora un intervento prezioso di Martina Lenzini, con una motivazione in più adesso, Tomà che prova ad andare, ultimo tocco di Lenzini, qualche problemino con il sole, lo vedete, calcio d'angolo. E' iniziato a grande ritmo e con emozioni Tomà, servito proprio il capitano, l'anticipo ancora di una monumentale Martina Lenzini. I caputi per Codina, lancio in profondità Giuliani, per Tomà, di prima cercare Piemonte, Grimshaw che prova la percussione, Martina Piemonte. L'anticipo di Lenzini, portare su questo pallone. Cerca Girelli, in profondità per Linzei Tomà, chiude Lenzini, finale ai supplementari. E invece siamo a tresimo con la Juventus che ha un passo dalla sua terza Supercoppa di fila.